Ciao cari amici di Turismo Messico Albanio, eccoci qui Mario e Claudio di Valle d'Aosta, siamo venuti proprio a Valle d'Aosta per un pranzo, infatti io vi ho detto a Claudio che vengo lì e mi ha portato in questo ristorante magnifico, ogni cosa qui, bio, meraviglioso. Niente, se non lo abbiamo pranzato, è un po' esiste qualcosa, Claudio, che io prometto che vengo da Albania, vengo qui nel Valle d'Aosta e mangiamo, facciamo un pranzo. E abbiamo fatto un bellissimo pranzo, abbiamo ricordato quasi un anno fa della mia visita appunto a Tirana, e niente, è stato tutto bene, a distanza di quasi un anno ci siamo ritrovati, felicissimi, esperienza positiva. Ci vediamo ancora a Tirana, anche qui. Esperienza positiva è la consiglia. Ciao, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao a tutti.